Margherita Mujer, prego signore, accomodatemi. Ma che ingresso bellissimo, hai visto? Poi stasera abbiamo un pubblico qua che è proprio... Non potete tornare tutte le domeniche? Tutte? Vabbè. Siete qua, oltre che per affetto smisurato nei miei confronti... Per te, mamma mia. Finalmente non ti vedevo da tanti anni. È vero. Non sai cambiato? Non sai cambiato? Ho imparato la strada. No, no, sono cambiato come? Io sono cambiato. No, tu sei male. Voi siete i denti. Sì, vabbè. Noi ci si dipende. Si, molto bene. Comunque, venire dopo? Beh, non l'ho già... No, niente, stai dicendo delle... Come la televisione della terza età, perché siamo venuti dopo. No, Margherita, no, 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 non l'ho detto. Non ti porto più. Non mi porto più. Margherita. Facciamo, cioè, sembriamo... Volare. Dai. Vabbè, volare. Se venivamo dopo... Voi siete molto amici. Dopo Annalisa. Dopo Annalisa. È peggio. Siamo venute, eh? Dopo Annalisa. Io non dico niente perché come insegna Luciana in questi casi qualunque cosa si dica si sbaglia. Proprio muro. È bello avervi qui. Grazie. Ecco, e con questo... Siamo felici di stare qua. Molto felici. Io molto felice. Voi siete... Per l'altro siete coetane. Perfettamente. Io sono più vecchia. Lei è più vecchia. Di due mesi. Ma non si vede, vero? A mazza hai studiato. Sì. Cioè, te sei proprio andato su Wikipedia. Sì, vuoi anche il giorno... No! No, non lo dico. Sì, sì. E siete anche molto amiche. Quando ho compiuto 60 anni... Sì. Il 28 marzo... No, non fa così. Non è proprio. Però è successo. Va bene. Un po' di tempo. Ma non che un po' di tempo. Che dite? Vabbè, insomma... Appena studiamo avanti. Wikipedia... No, senti. Wikipedia... Faccio veloce. Wikipedia ha il 29... Io ho compiuto gli anni il 29 marzo. Tanto sta su Wikipedia e si sa tutto. Il 28 a mezzanotte... Ho detto, mazza, c'ho ancora 59 anni. E l'ho postato, bello, bello. A mezzanotte... E uno... E venti... Mi avevo 60... E io sono nata alle sette e mezza la mattina. Non era giusto. Certo. Mi sono indispettita. Hai fatto bene. Hai capito? Ecco. A me capiterà l'anno prossimo. Pensa. Vergognati. Va bene. Vergognati. Un anno. Va bene. Dunque, dicevamo di volare. Ha detto bene, Filippo, a 22 febbraio, sarà nelle sale, si intende per sale cinema, il primo film da regista di Margherita Bui. Succede. No, succede. Perché è successo? È successo la prima domanda. Perché? Come... Come... Non avevamo trovato nessun altro. No. Ha detto... Te. Io. Va bene. No, ma cos'è che ti ha portato a fare adesso questo passo? Sono una primipara tempata. Tempata, sì. Nel senso di prima regia. Basta di parare di questa cosa. No, nel senso come regista. Hai fatto un film meraviglioso. No, ho fatto... Ho voluto... Non era nei piani. Non era nei piani, assolutamente. Non volevo assolutamente fare questa esperienza. Ne avevo il terrore. Però poi mi sono messa... Terrore, adesso è il terrore. Terrore? Beh, lei è al terrore. Io ho il terrore di tutto. Anche di questi pesci che possono uscire dalla cosa. Ma non possono uscire. Attaccarsi dalla cosa. Oddio. Ma non posso. Ma non si sa mai. Ma sono dei pesciolini rossi, poveri. Sì, però ammetti che si rompe. Ma che si rompe? Stanno davanti a te poi. Cioè, magari mi attacca il piede. Vabbè, il prossimo film si chiama acquario. Lo giro qui. Lo giri qui. Vabbè, allora, devo parlare seriamente. Dai. Allora, dove ero rimasto? La domanda... Non è neanche cominciato. Non è cominciato. Allora, io ho molta paura di una certa cosa che forse si evince da questo... Volare, sì. Esatto. Tutto il film è... Del treno. Ho paura del treno, chiaramente. Dell'aereo. Ho paura di volare. Sì. Ho paura di volare. È una cosa che mi ha, diciamo, privato di tante cose belle nella vita, chiaramente. Però a questo punto sono venuta a uscire allo scoperto e mi sono dichiarata fiona internazionale, nazionale per ora. Però hai fatto questo film un po' per esorcizzare, un po' è terapeutico. Un po' terapeutico, un po'. Un po' è una commedia. Sì, è una commedia, si ride, è ironica. Mi sono molto presa in giro su questa paura. Perché io poi ho fatto un corso per vincere questa paura. Ma il film l'ho visto, ma davvero anche nella vita? Certo. E ho mandato anche gli sceneggiatori... Ma che è arrivata col jet privato lei qua? Doriana Leondef e Antonio Leotti, che adoro. Li ho mandati a fare in segreto. Il corso. Loro non avevano paura dell'aereo, però li ho mandati in segreto a fare il corso. Quindi si sono trovati circondati da fiboni cronici. Sì. E ti è passata la paura col corso? Devo dire di sì. Non ci credo. Se no Ita mi uccide. Sì. Sì, l'hai passata. Ma io... Ma tantissimo. Ma c'è proprio... Poi nel film, loro due sono due attrici antagoniste. Nel senso... L'hai visto il film? Ma io li vedo tutti i film di cui parlo. Sennò non apro bocca sui film. Ma come si fa a parlare con due attrici come voi e non aver visto il film? No, stessando. Figurati. Allora, loro due sono due antagoniste nel film. Perché fanno entrambe le attrici. Addirittura Elena Sofia ti ha... Tu hai lo stesso nome, non ti ha cambiato il nome? No, no. Lei mi ha chiamato... L'ho raccontato. Mi ha chiamato... Era il marzo del 21. Io non stavo proprio benissimo in quell'epoca. Ero un attimo ricoverata. Mi chiama Margherita. Mi dice, senti... Allora, scusa, ti disturbo? No, guarda, proprio non ho niente da fare. No, perché ci sarebbe... Sto scrivendo un film e c'è un personaggio... Però, no, 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 no... Se non ti piace non devi... Io non parlo così. No, tu parli così. Insomma... Un po' parli così. Cioè, però, se non ti piace... No, perché secondo me lo puoi fare solo tu, quel personaggio. Perché è proprio... Si chiama? È proprio... Cioè, se non ti piace non lo fare. Io, no, Margherita, guarda, io già sto resuscitando. Perché già il fatto che tu abbia pensato a me mi fa piacere. È una cosa bellissima, no? Sono quelle frasi che si dicono. No. Ah, no, chiedo scusa. No, 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 no. Pensavo... No, pensavo. No, no, lo penso dal profondo. Io non lo sapevo. L'ho chiamata che stava ricoverata. Credo in questa posizione. Come stavi? È tutta... Sdraiata. Vabbè, insomma... Comunque mi ha fatto... Poi mi ha detto, però te lo mando, però se non... E poi quando l'ho letto ho detto, mi sono troppo divertita perché si trattava di prenderci un po'... Adesso parlo un attimo seriamente, un po' in giro tutte e due. Siccome ci vogliamo bene, siamo amiche, abbiamo lavorato insieme, ci siamo trovate bene, c'è un affetto, c'è una stima. Assolutamente. Lei che mi invitasse a fare questo ruolo... Perché cosa succede? Che per la paura di volare... No, ma non diciamo troppo, eh. No, ma devo dire una cosa, se non si capisce... Lei è l'attrice che io vorrei essere... Tu per la paura di volare rinuncia a delle cose. A delle cose. Compreso a un lavoro che invece viene offerto a lei. Sì, che penso che sia stato scritto per me, che racconto... Sì, lei crede... In realtà a lei vorrei essere... Che io vorrei essere... Lei è quello che tu vorresti essere. Sì, e io penso che... È impavida, prende la sua riserva. Esatto, la sua riserva, però a lei proprio dà molto fastidio. Sì, però sempre una riserva sono. Senti, ma Nanni Moretti ti ha dato dei consigli sulla regia? È venuto, è venuto... No, è venuto su sette? Sì, sì, è venuto su sette. Sì, non lo fare. No, 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 era molto contento invece. Era molto contento che facessi questa cosa. Aveva letto il copione, ha detto molto carino, è poi venuto. Poi l'ha anche proiettato al Sacher il giorno dopo la festa di Roma. Quindi mi sembra una cosa molto carina. Poi in tutto questo succede che c'è tua figlia nel film, che è anche tua figlia. Sì, ho mischiato un po' di cose, vere, non vere, Caterina De Angelis, si chiama? Beh certo, è tua figlia, lo so che lo sai come si chiama. No, perché, no, non si chiama, no, ti volevo dire Caterina De Angelis. Sì, dico, tua figlia. Perché non si chiama come me, ho detto per dire si chiama Caterina De Angelis. Sennò lei mi dice, mamma non hai detto come mi... Sembriamo due matti qui. No, va bene. Comunque, Caterina, tua figlia, che è anche figlia di Carlo Verdone. Ah, non lo sapevo. No, in vita da Carlo. Cioè lui dice che io non ho capito... Io non ho capito se è tua figlia o se è tua figlia. Ma forse è figlia di Carlo. E fa anche la figlia di Carlo Verdone, in vita da Carlo. Nel film recita una parte in cui fa tua figlia che vuole andare a studiare negli Stati Uniti, all'università. Esatto. È stata un'occasione anche così, un po' per parlare anche un po' di me, perché io ho fatto tanti film, ho fatto tante cose. Però ho sempre raccontato le storie di altri. Mi sono divertita un po' a raccontare un pochino di me stessa, in maniera chiaramente, spero, divertente e ironica. E quindi mi sono un pochino messa così, mi sono messa un po' in gioco. E poi è un modo per parlare di una paura, di una fobia, per affrontare in realtà tutte. Insomma, è un modo per esorcizzare tutte le fobie. Ha detto, Margherita, che hai fatto tante cose, tante film. Anche tu hai fatto tante cose, tante film. Il consiglio di fare tante cose ti arriva da Mastroianni, vero? Sì, anche. Beh, quella un po' era una mia mania da quando ero bambina, perché io vengo dalla danza. Quando ero piccola facevo le recite, coinvolgevo i miei cugini, le mie amiche del cuore. Poi i compagni di scuola li ho distrutti. E mi piaceva cambiare. E poi, sì, effettivamente, io avevo una famiglia. Mia mamma era una scenografa, è stata la prima donna scenografa del cinema italiano. Certo. Quindi in casa, e il mio papà, putativo, anche era un regista. Quindi passavano molti anni, attori, registi. E tra questi c'era Mastroianni, io ero una bambina, ero piccolina. Diceva, ma che vuoi fare? Ti voglio fare l'attrice. Diceva, allora, guarda, ricordati. Eleni, fai tutto. Tutto. Non sputare su niente, perché questo mestiere si impara facendolo. E io così ho fatto. Ho fatto tutto quello che mi veniva offerto compatibilmente, insomma, con le cose. Però aveva ragione, perché... Sei d'accordo tu, Margherita? Ma sì, sono d'accordo, anche se io sono stata forse molto, invece, un po' schizzignosa sulle cose da fare. Avevo sempre le mie ansie. Quindi non è d'accordo? No, no. No, lei è d'accordo. No, io sono d'accordo e faccio tutto e ho fatto anche tante cose. Tantissime cose. Tantissime cose. Però avevo sempre, come al solito, delle paure, stranamente, di fare delle cose che potessero assomigliare a quell'altra. Cioè, mi facevo moltissimi problemi. Poi in realtà ho fatto tutto lo stesso. Senti, ma... Io me ne sono fregata. No, no, hai fatto bene, ma è un problema mio, un problema mio, che sono sempre ipercritica. Però a me, senza... Cioè, a me, Margherita è una delle persone che fa più ridere quando al cinema mi fa... Non lo so, mi viene proprio naturale, mi fai ridere naturalmente, è una cosa bellissima. Anche ieri è stato un viaggio... No, ieri mi ha fatto... Da dove? Da Sanremo. Vabbè, ma in macchina, mica in aereo. Sì, sì. Io per non prendere l'aereo... Vabbè, lasciamo perdere. Cosa hai fatto? Come andate? Ieri ho rotto le scatole, ieri è stata di un'antipatia. No, non è vero, non c'è stata antipatica. No, ti dai. Non era antipatica, era terrorizzata. Pioveva che Dio la mandava, era un taggio terribile. Abbiamo fatto una cosa che si definisce... Terribile, non si possono dire queste cose. Un'autostrada, diciamo. L'autostrada? Oddio, Margherita. Non lo dico. No, dillo. Pioveva molto. Va bene, io abito... Una certa autostrada? Io abito lì, la faccio tutte le settimane della mia vita. Mi conosco, le curve, le gallerie... Ecco, io non la faccio spessissimo. E devi farla di più. Va bene. Ti passa la paura? Vieni a trovarmi, andiamo. No, io ero veramente, no, terrorizzata. Ho detto, lasciatemi qui. Ma cos'è che ti faceva paura? Qui erano delle pozze da... No, questa pioggia pazzesca, i camion che ti arrivano, ti spruzzi da niente. Cioè, no, ma non è possibile. Cioè, non è possibile. Cioè, io che non prendo l'aereo, che ho il terrore di vado a morire sulla macchina. È una notizia orribile, non posso. No, proprio, mi sono sentita... Ecco, il film è tutto così. Il film volare è tutto così. Non perdetevelo dal 22 febbraio al cinema. È tutto assolutamente così. Io però, prima di... Vabbè, però... Poi io pensavo, fosse colpa di Verdone... Ma poi non mi parlava nessuno. E chi ti parla? Cioè, perché faceva... Cioè, io dicevo, io non ce la faccio. Chiedeva di scendere. Chiedeva di scendere. E loro facevano... Poi lo prendeva il trenno. Lei guardava il telefono. Ma l'altro... Ma no, ma non è così brutto. Cioè, c'era... Ma no, ma è normale, sta piovendo. Sotto c'era brutto. Pioveva, ragazzi. Pioveva. Pioveva. Poi entravi in galleria, c'era uno che ti sent... C'era uno sopra, che ti sent... Ti aspettava che arrivassi per tirarti la secchiata. Ma no, quello è quando la galleria finisce. No, c'è uno, arrivano, 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 boom, ti arriva la secchiata. Ma dai, ma scusa, ma un attimo. Ma un attimo. Ho dovuto? Vabbè. Aspetta, devo dire una cosa importantissima. Dilla, dire una cosa importantissima. No, importantissima, ma non riuscirò mai a dirla tutta. Dilla? Il cast è meraviglioso. No, il cast, aiutami. Allora, è un cast fantastico. Scusa, ma lei è sul set. Lei è bravissima. No, è tosta, cattiva? No, è un amore. È un amore di persona. È molto carina, è molto gentile, è un'attrice, quindi sa tutte le pare che abbiamo noi attori e attrici. Quindi sa perfettamente come prendere ciascuno di noi, perché è anche un po' psicologa. Cioè, non sembra, però lo è un po' psicologa. Vedi? Sono dubiotte per questa cosa che ti sento. Grazie. Passa, però, c'è più una lira, perché a Sanremo mi hai detto delle cose stupende. Vabbè, è stata molto, molto brava e poi anche bella svelta, cioè che fai 102 ciacche e quelle cose, no? Certo. Molto con le idee chiare, molto brava, molto carina. No, grande. Si è circondata di un cast tecnico eccezionale, di un cast di anche attori e attrici. Distrito, certo. Eccezionale. Abbiamo degli attori che... Lo devo dire velocissimo? Ma sono tutti attori pazzeschi? Sì. Anna Bonaiuto, Giulia Michelini, Euridice Axen, Francesco Colella, Roberto De Francesco, Maurizio Donadoni, Piero Ragusa, Vanessa Compagnucci, Caterina De Angelis, Oscar Matteo Giugio, Alice Ferri, Amedda Fiene, Massimo De Francovic. Una formazione, ha detto, praticamente. Perfetto. Importa? Adesso cosa fai? Adesso state a Milano. No, ma poi Elena Sofiarici perché lì non c'è scritto. Adesso state a Milano o andate a Roma? Che facciamo? Domani sera a giro, faccio la notte. Domani sera giri, quindi tu vai in aereo domani mattina? No, vado in treno, per esempio. Tu invece? Io vado in aereo domani, anche se non so dove andare. Ssh, ssh. Elena Sofiarici, Margherita Bui, volare al cinema. Prego. Dal 22 febbraio. Oh mia. Oh Dio. Oh, non vado a pazzesco. No, no, grazie. Tengo a dire che non sono i fiori di Sanremo perché sennò pare che uno li abbia... Non ce l'hanno dati a Sanremo. Non ce l'hanno dati a Sanremo. Perché non cantavamo. Se avessi cantato una canzoncina te le davano. Dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Di qua, di qua. Volare. Ciao, ciao Fabio. Ciao.